Non c'è, adesso ci sono molte foto di Che Guevara, se no. Non c'è, adesso ci sono. 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 Non c'è. Non c'è, adesso ci sono. Non c'è. Non c'è, adesso ci sono. 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 Non andiamo. Grazie mille No ma voi guardate, sai quei cintri lì vanno su e giù eh? Che va su e giù? Grazie mille Come dici scusa? Anzi provate a scendere ancora va No ma voi guardate, sai che? 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 Si, vai guardate Ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.